Sono numeri che fanno paura al limite del collasso, quelli che ci fornisce il dottore Raffaele Scala, primario del reparto di pneumologia, in merito all'occupazione della cosiddetta bolla Covid all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo. Da oggi la provincia aretina è zona rossa. Purtroppo sono numeri non confortanti perché stamani il numero di pazienti ricoverati nell'area Covid, pneumo-infettivologica, contava 108 pazienti e in terapia intensiva 21 pazienti. Quindi ora certamente la fase è probabilmente più difficile e oggi come sapete anche Arezzo è in zona rossa, ma questo credo sia necessario per cercare di abbattere la circolazione del virus. Nonostante tutto ci dicevamo riusciti a fornire servizi anche per pazienti che si rivolgono al suo reparto non Covid, ricordiamolo perché è bene farlo. Sì, grazie per questa opportunità perché ci sono tante altre persone che hanno purtroppo malattie respiratorie, sia croniche che acute, non legate al Covid, che possono pensare di avere sempre difficoltà di entrare in contatto con l'ospedale perché prevalentemente è un'attività Covid. Però a pneumologia la nostra organizzazione è quella di aver aumentato ulteriormente l'integrazione con la medicina generale attraverso una metodica del telepremoconsulto per cui telefonicamente andiamo a intercettare questo tipo di esigenza e vediamo di gestirlo telefonicamente a volte anche con visite molto selezionate. Ugualmente per quanto riguarda anche i ricoveri, in area non Covid abbiamo sempre sei posti di terapia intensiva non cori, premologica, UTIP, in cui anche al giorno d'oggi siamo pieni, quindi possiamo dare risposta a queste persone.